Mentre l'Unione Europea sta ancora cercando di trovare il modo per sbloccare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, Euronews ha incontrato l'ambasciatore ucraino presso l'Unione Europea, il signor Cenzsov. Considerando che c'è un sesto pacchetto di sanzioni compreso un embargo petrolifero e che l'Unione Europea non può adottarli perché ci sono paesi tra cui Ungheria e Slovacchia che continuano a resistere, chiediamo se a Kiev siano delusi. Sì, lo siamo, perché si tratta di una lotta comune, comune intendo, dell'Ucraina, dell'Unione Europea, di altri partner contro una dittatura, contro un aggressore. Pensiamo che questa solidarietà che si pronuncia, che si dichiara, di cui si parla, debba trasformarsi in azione. Ci aspettiamo che chi decide, in Ungheria, in altri paesi, sia umano, capisca cosa sta succedendo in Ucraina. Loro stessi hanno potuto vedere il livello di atrocità intorno a Kiev e in altre città. Per fermare la Russia, penso che gli stati membri dell'Unione Europea debbano essere pronti anche a determinati sacrifici, compresi quelli economici. Parlando delle aspirazioni ucraine a entrare nell'Unione Europea, Kiev ha già consegnato il questionario richiesto dalla Commissione, dal Consiglio. Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato più di una comunità politica per i paesi vicini all'Unione Europea, piuttosto che una piena adesione. Qual è stata la reazione a Kiev di fronte a queste proposte? Emmanuel Macron è un presidente di uno Stato membro molto importante, che presiede il Consiglio e sicuramente questi suggerimenti debbono essere studiati con molta attenzione. Quello di cui abbiamo bisogno ora è concedere all'Ucraina lo status di candidato, perché per noi è una questione esistenziale, perché la Federazione Russa ha messo in discussione il diritto del popolo ucraino a esistere, il diritto dello Stato ucraino a esistere. Quindi la concessione dello status al nostro esercito, al nostro popolo, darà una spinta morale e psicologica enorme e una sorta di riconoscimento dell'Ucraina come paese europeo in una famiglia di altri stati europei.